Il progetto Vago nasce nell'agosto 2019 dal desiderio di raccontare storie, stati d'animo ed esperienze che ho vissuto in prima persona, ma non solo, anche storie che non mi appartengono, che vanno dalla parte più personale di me a tematiche più sociali, che mi appartengono anche grazie al lavoro che ho svolto per due anni in una comunità per i minori stranieri non accompagnati, ai miei studi, sono laureato in psicologia, quindi tutti questi tasselli messi insieme formano il progetto discografico che appunto dà il nome Vago. Molti hanno potuto apprezzare quello che scrivi, i tuoi componimenti, perché già è uscito un precedente lavoro. Sì, a fine gennaio, il 31 gennaio del 2019 è uscito Distanze, il primo vero lavoro discografico a cui mi sono approcciato, è un EP di 5 brani dal titolo Distanze, che tratta appunto questa tematica in maniera molto differente, con diversi punti di vista, pubblicato in tutte le piattaforme streaming, si può ascoltare ovunque, su Spotify, su YouTube. Adesso invece c'è Ruggine, questo nuovo lavoro, questo singolo che continua questo progetto. Sì, Ruggine è una nuova svolta, anche dal punto di vista musicale c'è stata l'aggiunta del contrabbasso, un componente fondamentale. Mi approfitto per salutare i componenti, Federico Pecoraro alla batteria, Luca Nicotra al contrabbasso e il mio chitarrista Alessio Fabbra. Ruggine tratta di una relazione ormai consumata, affronta il tema da un punto di vista immateriale, cioè sposta l'attenzione a una dimensione interiore, quindi al consumarsi della relazione tra due persone e in generale il consumarsi dei propri sogni, delle proprie aspettative, che di fronte alla quotidianità molte volte non possono essere soddisfatti.